Rossini TV torna ad accendere le sue telecamere sulle segnalazioni dei cittadini. Oggi ci troviamo in pieno centro storico e nello specifico in via Severini, che è la via che porta all'ingresso secondario della biblioteca San Giovanni rispetto a quello principale di via Passeri. Alle mie spalle vedete la porta d'accesso al parcheggio di questa via verso la biblioteca, ma non solo alla biblioteca. C'è anche una struttura residenziale che è sovrastante la biblioteca, il Civico 13, dove ci sono nove appartamenti. Abbiamo ascoltato i residenti di questa struttura perché una volta questo parcheggio era delimitato da un cancello. Da diversi anni questo cancello non c'è più e quella che era un diritto al parcheggio per la propria abitazione non è più così. Da anni c'è una sosta selvaggia, non c'è questo diritto al parcheggio davanti alla propria abitazione. Un diritto che però i residenti cercano di fare valere chiedendolo anche all'amministrazione comunale. Stiamo parlando del cortile della biblioteca San Giovanni, che è un'area privata, dove un tempo c'era un cancello. Poi a seguito della richiesta di alcuni vicini è stata data la possibilità, con una delibera di giunta, della vecchia giunta, di parcheggiare praticamente tutto il vicinato, chi ha il permesso della ZTL. E quindi qui è diventato un parcheggio selvaggio. Dobbiamo tener conto che qui abitano delle persone, alcune anziane, alcune con delle patologie e anche con l'handicap. E quindi avrebbero bisogno di avere almeno un parcheggio per sé, visto che abitiamo sopra questo cortile, che è di pertinenza di questo edificio. Per cui chiediamo semplicemente che venga riservata alcuni posti per i condomini e poi il comune potrà fare del resto del parcheggio quello che crede. Qui il parcheggio avviene in maniera selvaggia anche dove ci sono le zone di strisce pedonali, fuori dalle strisce proprio, fuori dalle strisce anche dalle postazioni. Per cui se dovessimo chiamare un'ambulanza non ha neanche la possibilità di entrare per andare a assistere il malato. Oppure a volte noi dobbiamo uscire con le biciclette, la mia vicina di casa ha la bicicletta, quella con le tre ruote, non riesce a passare. Quindi proprio è un parcheggio selvaggio. Attualmente sono circa 15 i posti auto all'interno di questa area di sosta, oltre ad una griglia di parcheggio relativa ai ciclomotori. e i residenti hanno una richiesta specifica su quello che potrebbe essere il numero adeguato di parcheggi riservati. Almeno 7 posti, perché alcuni non hanno la macchina, quindi 7-8 posti. Stiamo parlando di sosta selvaggia, tra l'altro in un'area che non è aperta a tutti, siamo in piena zona traffico limitato. Esatto, sì. Questa è un'area privata, io sono andata anche a vedere al Catasto. Come dicevo prima, c'è un cancello, c'era un cancello che è stato fatto togliere, c'era una barra che era stata messa dal comune, quella è stata, come si dice, divelta da qualche vicino. Quindi qui, insomma, ognuno fa un po' come gli pare. Ecco, è per questo che chiediamo l'intervento del comune per regolamentare appunto questo parcheggio.